Se siete tentati dall'home cinema per vivere l'esperienza del cinema tra le mura di casa, avete ormai l'imbarazzo della scelta. Marchi come Sony, Panasonic, Philips, Samsung o LG vendono numerosi modelli. Per aiutarvi a fare la vostra scelta, testiamo in un laboratorio specializzato un campione di home cinema rappresentativi del mercato. Abbiamo appena testato tre tipi di kit home cinema. Dei modelli 5.1 composti da 5 altoparlanti e una cassa per i bassi. Dei modelli 2.1 composti da due altoparlanti e una cassa per i bassi. Delle soundbar, un sistema in cui gli altoparlanti sono integrati in un'unica barra sonora. I modelli 5.1 e 2.1 includono un lettore Blu-ray ma non le soundbar. L'installazione di un home cinema non è semplice. Per esempio, il sistema deve conoscere la distanza tra gli altoparlanti e la vostra poltrona. Alcuni home cinema fanno la regolazione autonomamente, con altri, al contrario, siete voi a dover regolare la distanza. E anche le connessioni vanno fatte accuratamente. Il cuore del nostro test è ovviamente sulla prova d'ascolto. Ciascun modello è paragonato a un sistema standard, volume del suono, effetto surround. Tutti questi test sono effettuati sulla base di diversi tipi di suono, con certo film, per esempio. Verifichiamo allo stesso modo se i lettori Blu-ray riescono a leggere i dischi rovinati e non tutti i modelli hanno superato con successo la prova. Per controllare la facilità d'uso, teniamo conto di diversi criteri. Chiarezza del manuale, facilità di installazione, presa e utilizzo del telecomando, semplicità del menu sullo schermo, tempo di selezione dei comandi. Viene presa in considerazione anche la facilità rapidita di lettura di immagini da una chiavetta USB. Per ciascun sistema o un cinema, valutiamo il consumo con lettura a diversi volumi, ma anche in stand-by. Tutti i kit possono attaccarsi alla presa domestica e quasi tutti permettono di accedere a un portale internet. A seconda delle marche, le funzioni sono più o meno numerose, interessanti e utili. Al termine di tutti questi test, ogni modello riceve un commento dettagliato che ci permette di determinare quale merita il premio d'acquisto. Consultate i nostri test e vedrete che non tutti ne sono all'altezza. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.